In piena attività, anche per quanto concerne il settore culturale, il commissario straordinario del Comune di Licata, Dario Cartabellotta, il quale, a sostegno del patrimonio della nostra terra, ha disposto infatti l'adesione del Comune di Licata mediante un sostegno finanziario a favore del Libero Consorzio di Agrigento, nella misura di 15 milioni di euro finalizzato all'acquisto della casa di Leonardo Sciascia, che sorge a Racalmuto. Si tratta dell'abitazione in cui il noto scrittore racalmutese Doc ha vissuto per parecchi anni e in cui vi ha concepito e scritto alcune delle sue opere più suggestive e significative, abitazione peraltro descritta in alcune delle sue opere più importanti, quali le parrocchie di Regalpetra, gli zii di Sicilia, la Sicilia come metafora. Avuta notizia del fatto che la suddetta casa è stata posta in vendita ed è l'istituzione amministrativa di Racalmuto non in grado da solo di sostenere l'acquisto di questo ricco patrimonio culturale ed etico, il Libero Consorzio di Agrigento, nel corso di un'assemblea dei sindaci che si è svolta il 4 agosto scorso, ha espresso la volontà di acquistare la casa di Leonardo Sciascia per custodire e valorizzare il ricco patrimonio morale e culturale in essa conservato e di consegnarlo alle nuove generazioni a memoria del messaggio culturale e civile che da esso è stato diffuso, mediante la creazione di un museo nel quale custodire tutte le testimonianze di vita e artistiche dell'illustre scrittore racalmutese.